Dai, in su Ottimo Un controllo bellissimo E poi la sbatte dentro Va bene, deve essere un Mbappé questo qua Questo è un gol di Mbappé, dai, su Solti e fatti da Guardate cosa? Guardate il controllo Dai Ludi, ora il difensore Vedi Voglio vedere come l'ha stoppata Di culo Di culo? Ma che schifo, che sei bravissimo Ha anche rubato le mani Eh si, sembra Mamma mia Mbappé